A volte vorrei diventare un concetto, diciamo, vorrei essere qualcosa di astratto che resiste al tempo, che sfida ogni legge e resiste, mi piacerebbe poter vibrare nell'aria e scendere nella notte, senza avere la paura di una morte vicina, senza sapere esattamente quando sono nate le persone, i loro discorsi, l'arte, la musica, i sapori del cibo, sono cose che amo, ma a volte tutto ciò mi pare come è strano, io, ma quando penso mi sento perdere nei miei pensieri, e le immagini che vedo sono reali, dunque, alla fine il mio pensiero prevale sull'azione, a volte vorrei diventare un concetto, di tutto, diciamo, vorrei essere qualcosa di astratto, che resiste al tempo, che sfida ogni che sfida ogni legge e resiste, mi piacerebbe poter vibrare nell'aria e scendere nella notte, senza avere la paura di una morte vicina, senza sapere esattamente quando sono nato, le persone, i loro discorsi, l'arte, la musica, i sapori del cibo, sono cose che amo, a volte tutto ciò mi pare come è strano, ma quando penso mi sento perdere nei miei pensieri, e le immagini che vedo sono reali, dunque, alla fine il mio pensiero prevale sull'azione, a voltei a dividono, e non..